La Mir ha sempre creduto nell'assistenza sanitaria da remoto e per questo motivo è che da tanti anni che abbiamo a disposizione strumenti della Mir che permettono di monitorare i nostri pazienti a domicilio. Mi chiamo Massimiliano Napolitano, sono uno specialista fisiopatologo respiratorio, faccio questo lavoro da oltre 30 anni. L'assistenza sanitaria da remoto rappresenta un valore aggiunto per uno strumento perché permette allo specialista, in particolare allo specialista, di monitorare costantemente quello che è l'andamento funzionale del proprio paziente e questo è importante perché ci sono strumenti tipo lo SpiroBank Smart o lo Smart One che permettono di monitorare quotidianamente quello che è l'andamento funzionale di pazienti, in particolare pazienti cronici. Per noi è cruciale perché in un paziente per esempio affetto da una malattia respiratoria cronica la possibilità di assisterlo da remoto significa riconoscere precocemente quella che potrebbe essere individuata come riacutizzazione di un processo infiammatorio e o infettivo che portano ad un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente. Qual è il punto di forza di questi strumenti? è l'affidabilità e l'accuratezza quindi avere questi parametri sicuramente non da considerare dubbi ma da considerare certi in quello che è lo studio funzionale del paziente è fondamentale per lo specialista per poter seguire costantemente in maniera corretta il proprio paziente.